Ben ritrovati in questo nuovo video di angiagruggeri.it quest'oggi sotto la nostra lente abbiamo il nuovo VeryFit Pro di Empow una smart band tecnologica sportiva con cardiofrequenzimetro integrato e ovviamente dopo la sigla andremo a vedere quelle che sono le potenzialità e le problematiche di questa smart band tecnologica venduta su Amazon ad un prezzo assolutamente concorrenziale Sigla! Ed ecco dunque la scatola di vendita del VeryFit Pro di Empow dove ovviamente all'interno sarà contenuto esclusivamente la smart band e il manuale di istruzioni presente anche in italiano dove sarà possibile avere il codice QR per poter scaricare l'applicazione per iOS e Android e soprattutto ci ricorda che è possibile avere il supporto al Bluetooth 4.0 datevi una lettura perché ne vale veramente la pena per capire come realmente funziona la smart band e questa è la parte più sostanziosa del pacco ovvero la smart band VeryFit Pro che è composta da due parti un cinturino in silicone con una fibbia in metallo mentre il corpo centrale dell'applicazione della smart band è composto da una parte anteriore con un display touchscreen in bianco e nero e sulla parte posteriore invece ritroviamo un lettore cardiofrequenzimetro che ci permette di poter rilevare i battiti per minuto durante tutta la giornata per rimuovere e per poterlo inserire e caricare basterà esclusivamente estrarlo dal cinturino ovviamente diventerà una semplice chiavetta USB e basterà ovviamente inserirlo in un caricatore da parete che non è presente però in dotazione e inserirlo subito in carica questa carica durerà all'incirca 40-45 minuti per poterla utilizzare in circa una settimana barra 10 giorni di utilizzo completo sempre connesso con il dispositivo e ovviamente sempre con la ricezione delle notifiche parliamo di certificazione certificazione IP67 per questa smart band che è ovviamente resistente ma non subacquea all'acqua e abbiamo detto che permette anche tra le tante funzionalità di poter monitorare delle attività sportive e anche monitorare il sonno ma parlavamo prima di notifiche permette anche di poter ricevere un avviso mediante un feed di vibrazione e anche una notifica sullo schermo delle notifiche che verranno ricevute all'interno del dispositivo stesso per quanto riguarda invece abbiamo anche la possibilità di avere una svenghia e la sinalazione di sms e chiamate che vengono ricevute dal dispositivo diciamo dallo smartphone e vengono inviate al Verifit Pro che deve essere ovviamente collegato mediante una connessione bluetooth andiamo dunque adesso sto ricevendo qualche messaggio andiamo dunque a vedere quelle che sono le peculiarità di questo dispositivo che presenta una gesture di attivazione basterà effettuare come avete visto una rotazione con il polso una volta indossato per poter accedere alla prima schermata di sblocco dove saranno presenti i passi effettuati e la data mentre con uno swipe verso l'alto sarà possibile accedere al menu delle impostazioni soprattutto anche delle applicazioni che sono preinstallate su questo su questa smartband quindi delle attività abbiamo la lingua inglese o cinese quindi niente italiano il training ci permette di poter accedere a una lunga lista di attività che possono essere scaricate dall'applicazione e poterle avviare facendo un tap per tre secondi e ovviamente verranno conteggiate le calorie bruciate i minuti effettuati di allenamento e anche i chilometri percorsi abbiamo la possibilità di effettuare il relax che ci permette di poter effettuare dei sospiri dei respiri più profondi per poter ovviamente effettuare per poter abbassare i battiti per minuto quindi la la misurazione che è stata effettuata grazie ovviamente a questi due tre minuti appunto di allenamento che ci vengono messi a disposizione dalla smartband stessa successivamente parliamo di notifiche quindi grazie a message potremo cliccarci all'interno e poter vedere le ultime cinque cinque notifiche questa è una parte che sinceramente non mi è piaciuta perché non si può in qualche modo anzi in nessun modo interagire con queste notifiche e soprattutto si ricevono anche delle notifiche di sistema che sono del dispositivo e vengono inviate in questo caso anche sulla suga smartband in questo caso c'è un messaggio di sistema di messenger dove dice anteprime delle chat e ovviamente non è una notifica che bisogna ovviamente ricevere sul suga smartband successivamente andando avanti possiamo avere il meteo grazie alla localizzazione che sfrutta del dispositivo e delle informazioni che appunto scarica mediante le connessioni ad internet e abbiamo anche un lettore integrato che fa riferimento a una delle tante applicazioni presente sullo smartphone per poter avviare e riprodurre la musica successivamente con more si va ad accedere le impostazioni del dispositivo e alle piccole funzionalità quale ad esempio il timer che possiamo attivare a nostro piacimento poter andare a visualizzare le 5 watch faces che ci vengono messe a disposizione vediamo un po' se posso farvele vedere sono praticamente quasi tutte quasi tutti uguali poi successivamente abbiamo la possibilità di attivare o disattivare le gesture per poter attivare il display del dispositivo con la rotazione del polso e andando avanti poter andare a spegnere ad accendere la connessione bluetooth riavviare il dispositivo e ovviamente abilitare la lingua del dispositivo e modificare la misura diciamo se poter scegliere i chilometri o le minghia questo è per quanto concerne ovviamente la smart band passiamo adesso all'applicazione l'applicazione che permette di poter sincronizzare ogni qual volta avvoghiamo quindi al collegamento andiamo a porlo un po' più avanti al collegamento i dati che sono memorizzati all'interno della memoria dello smart band sul nostro dispositivo e l'applicazione ci permette di poter effettuare grazie a una grafica chiara di poter vedere quelle che sono gli obiettivi del giorno il sonno e soprattutto il battito cardiaco andiamo su una mia giornata di utilizzo completo dove ho fatto circa 6.505 passi di camminata avevo impostato l'obiettivo a 10.000 passi ho bruciato 331 calorie fatto una distanza di 4.61 km per un'attività una durata di attività di 2 ore e 6 minuti monitorato anche il sonno con il sonno leggero soprattutto il sonno profondo e attraverso una storyline scorrendo ovviamente verso il basso sarà possibile andare a vedere quelle che sono le attività che sono state svolte durante la giornata in battito cardiaco invece abbiamo il riassunto dei battiti cardiaci a riposo una frequenza cardiaca media e ovviamente il battito cardiaco massimo registrato durante la giornata poi abbiamo i dettagli che possono essere un riassunto di settimana mese o addirittura anno e su la scheda del dispositivo invece abbiamo le generalità del dispositivo quindi la versione dell'app e la versione di informazioni quindi il firmware che è installato all'interno della smartband al momento della versione 37 nonché anche la percentuale di batteria che non è possibile vedere però dalla smartband stessa e ovviamente tutte le impostazioni come dicevo anche il controllo della musica che è possibile ovviamente associare dal dispositivo che verranno registrati sulla smartband successivamente in più sarà possibile effettuare abilitare le previsioni meteo come abbiamo già visto e per quanto riguarda la possibilità di perdere questo dispositivo abbiamo il promemoria anti perdita che una volta disconnesso dal dispositivo inizierà a vibrare così da farci accorgere che stiamo perdendo o la smartband quindi ovviamente non potremo utilizzarla più e ovviamente o il telefono cellulare poi per quanto riguarda l'orario segue ovviamente quello di sistema l'intervallo della frequenza viene può essere personalizzata o viene eseguita quella di default del dispositivo stesso oppure può essere riavviato direttamente dalla applicazione mentre per quanto riguarda la scheda utente possiamo accedere a registrarci al servizio Verifit Pro che viene appunto integrato in questa applicazione poter andare a vedere le informazioni personali nonché il peso e ovviamente l'altezza e poter sincronizzare tutti i dati che vengono raccolti nel Verifit Pro nel Google Fit e poter essere così sincronizzati con il nostro account Google per quanto riguarda il costo di questa smartband è di 30,99€ è possibile ritrovarla in vendita su Amazon ovviamente viene venduta da Empower e spedita direttamente da Amazon se avete Amazon Prime non pagherete i costi di spedizione e una mia considerazione finale questa smartband è una smartband classica che è possibile trovare in commercio ad un ottimo rapporto qualità-prezzo però ovviamente avendo già provato i Mi Band di Xiaomi i Mi Band 1 e i Mi Band 2 ovviamente questa non è altro che una fatidica copia di quello che è ormai lo smartband la smartband per eccellenza ovvero il Mi Band 2 che è possibile già trovarlo con l'importazione in Italia a circa 16-17 euro però se volete un dispositivo affidabile come si è dimostrato durante questi giorni di prova il VeryFit Pro vi consiglio assolutamente l'acquisto ovviamente il link per l'acquisto lo trovate giù in descrizione e vi invito se questo video vi è piaciuto a mettere mi piace al video stesso mettere un like ovviamente al video se avete delle domande potete tranquillamente farle qui giù al video stesso e se ovviamente potrò rispondere vi risponderò quanto prima altrimenti girerò queste domande direttamente alla Empow e ovviamente vi risponderò commentando e riportando le parole di Empow riguardo una qualsiasi funzionalità di questo smartband da Angelo Ruggeri è tutto vi rinnovo l'appuntamento al prossimo video di AngeloRuggeri.it e noi ci rivediamo dunque ad un prossimo video qui su YouTube ciao ciao da Angelo Ruggeri